Il giornalerà, il Vivi di Centro Network Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu Disarticolata dai carabinieri rete di soggetti dediti al traffico di farmaci dopanti, decine gli indagati in tutta Italia, anche a Messina I carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno e dell'NAS di Ancona Nel corso di 55 mirate perquisizioni disposte dalla Procura di Ascoli Piceno in 30 province Hanno smembrato una rete composta da decine di soggetti ritenuti, responsabili di ricettazione, utilizzo di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, nonché importazione illegale di medicinali Individuate decine di persone, atleti di varie discipline e frequentatori di palestre, avvezzi all'acquisto di farmaci ad effetto dopanti Termina così il nostro momento di informazione Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive